Il lunedì 27 febbraio 2023 ben ritrovati da Francesco Capo ad una nuova edizione di CortoTG. Un nuovo studio scientifico in Giappone ha trovato la proteina Spike del vaccino Pfizer nelle lezioni dell'Herpes Zoster. Il lavoro di ricerca è stato condotto da un gruppo di scienziati dell'Università di Kochi, coordinato dal professore di dermatologia Shigetoshi Sano. Il caso che ha consentito di fare questa scoperta scientifica riguarda un uomo di 64 anni affetto da artrite reumatoide che ha ricevuto la prima dose del vaccino Covid-19 AM RNA di Pfizer. 13 giorni dopo ha sviluppato lesioni cutanee dolorose su mani e gambe. Queste sono peggiorate dopo la seconda dose del vaccino Pfizer e sono durate tre mesi. La biopsia ha consentito di trovare la proteina Spike del sierogenico sulle lesioni dermatologiche. Uno studente di 21 anni dell'Università della California, Ivan Fischel, è morto di una forma fulminante di leucemia quattro giorni dopo la diagnosi. L'accademia frequentata dal giovane aveva imposto come obbligatoria la vaccinazione anti-Covid per frequentare le lezioni e fino ad oggi la raccomanda. L'oncologo statunitense William McKiss ha commentato dicendo di non aver mai visto una progressione così rapida della malattia. Ha parlato di tumore turbo, precisando che si tratta di una espressione non scientifica. L'ipotesi avanzata in diversi studi è che il vaccino Covid riprogrammi il sistema immunitario. Uno studio condotto dal cardiologo Peter McCulloch descrive i complessi meccanismi attraverso i quali i vaccini AM e RNA compromettono la segnalazione del sistema immunitario, alterando la comunicazione tra le cellule del sistema immunitario. Un altro lavoro di ricerca suggerisce che la proteina Spike del SARS-CoV-2 interagisce fortemente con le proteine di soppressori tumurali, provocandone il potenziale spegnimento. Il Pio Albergo Trivulzio, casa di cura di Milano, ha annunciato che dal 1 marzo ritornerà alla normalità pre-pandemica. Non saranno più necessari il tampone e il triage legato a protocolli anti-Covid per accedere alla struttura e alle camere dei degenti. A darne comunicazione è stato il Comitato di sana e robusta Costituzione, che ha tenuto una serie di presidi dinanzi alla struttura milanese nell'ambito dell'operazione Riapriamo le porte, volta a spingere le istituzioni sanitarie e le direzioni sanitarie a ripristinare il libero accesso alle strutture ospedaliere. È una grande vittoria nel corso della nostra battaglia per l'umanizzazione delle cure, presso uno dei luoghi simbolo della dittatura sanitaria pandemica, ha commentato Raffaele Varvara, fondatore del Comitato di sana e robusta Costituzione. È un mistero la morte di un ex consigliere di Bill Clinton alla Casa Bianca negli anni 90. Mark Middleton, 59 anni, è stato trovato morto in un ranch a Perryville in Arkansas il 2 maggio 2022. Secondo gli inquirenti si tratta di un suicidio, questa la conclusione delle indagini della polizia dell'Arkansas. Come ha riferito il New York Post, un rapporto della polizia spiega però che Middleton è stato trovato morto con una ferita d'arma da fuoco al petto e una corda che gli legava il collo a un albero. L'arma da fuoco non è stata mai trovata. Middleton incontrò alla Casa Bianca, almeno in sette occasioni ufficiali, Jeffrey Epstein. Il finanziere arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni è trovato morto in circostanze misteriose nel 2019 nella sua cella del carcere di New York. Dopo una visita di Epstein alla Casa Bianca nel maggio 1994, quest'ultimo volò da Washington a Palm Beach in Florida per tornare presso la sua residenza. Middleton era con lui sull'aereo. Il giorno seguente i due si spostarono da Palm Beach alle isole Bahamas. L'ex presidente Bill Clinton è stato più volte ospite alle Tolson James, l'isola privata di Epstein nelle isole vergini. Bill Gates investe nella birra. Il fondatore della Microsoft ha acquistato il 3,8% del gruppo Anakin. Si tratta di un investimento da 902 milioni di dollari. Gates ha comprato 6,65 milioni di azioni della Anakin a titolo individuale e altri 4,18 milioni di azioni attraverso il fondo fiduciario della Bill & Melinda Gates Foundation. Bill Gates ha dichiarato di non essere particolarmente amante della birra. Anakin è il primo produttore di birra in Europa e primo anche in Italia con una quota di mercato pari quasi al 30%. Tra i marchi una volta italiani di proprietà di Anakin vi sono Birra Moretti, Icnusa e Messina. In descrizione vi postiamo un link fonte Assobirra con tutti i marchi di proprietà della Anakin per capire proprio qual è la portata dell'ultimo investimento fatto da Bill Gates. Con questa notizia si conclude il corto DG del 27 febbraio 2023. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo aggiornamento con le informazioni di Isole TV. Grazie a tutti.